Circa 30 minuti per parlare di tutto l'orrore in cui è precipitato l'Iraq. Papa Francesco ha incontrato a Santa Marta il cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e suo inviato personale. Appena rientrato dal paese del Golfo, il porporato ha illustrato al pontefice la drammatica situazione in cui versano decine di migliaia di cristiani, yazidi e altre minoranze cacciate dagli estremisti jihadisti verso il Kurdistan. Nelle parole del cardinale Filoni, ascoltato con viva attenzione e partecipazione da Papa Francesco, sono rivissute così le paure e le speranze di quanti attendono una risposta della comunità internazionale al loro grido di aiuto davanti alla violenza dei miliziani dello Stato Islamico, dell'Iraq e dell'Evante.